La 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 la... La 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 la... La 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 la... La la la.... La 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 la... Lalalalalala... Aiò, entrate come? Il caffè è pronto! Che punto devo esser tu, caro? 4, 4,5. Non ti senti che ci scambi, non ti senti che ci spazio, poi veniteci sui pelicino e sui diabete... mi ricordo quando era vivo Ermenigildo, anzi non me lo ricordo più non me lo ricordo Non mi samentate più nuda oggi, soffrite pure di amnistia, questa tremarella pure, sul morbo dei Wilkinsons. La dentiera mi è partita. Io sono andata su dentichia che tenia un amplesso, mi ha fatto un'estesia e mi ha pagato uno decisivo. A me la mette quella canzone che mi piace tanto, però basso il volume mio che mi fanno male le orecchie. Voi tenete fin se il problema di Auditel e le trombe di falloppio? Mi ricordo quando ero vivo il Menegildo, anzi non me lo ricordo più. Oh, sicuro, ma di vostro, guarda Dio, vi mi sono in uno bikinicchi, le belle di uno cactus, improvviso, sì che è molto sicuro. Già vi pago un bello, mi lamenta, sopino biondo, torta a broccoli. Oia! Nebo di mio è partito a visitare l'Evva e l'ha fatto agile, agile mio! Se l'amico invece sicuro l'ha cacciato, però ti l'ha cacciato un tuffo al cuore sicuro. Oia! 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 Beh, io vado adesso. Venite a pranzo, ho preparato una trippa. Oia! 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 Tu sei piccolina, lo sai...